C'è questa percezione in Europa, ma assolutamente non c'è negli Stati Uniti, in Asia e Africa neanche parlarne, non esiste oggi e quindi sicuramente diventerà una cosa difficile, io sono convinto che sia necessario farlo, sono convinto che oramai la direzione sia questa e sarà una cosa anche estremamente positiva, sebbene regolamentata, poi ci creerà qualche problema, saremo meno competitivi noi europei perché alla fine sarà questo il discorso, dipende anche da quali sono le percentuali. Ma lei perché è meno competitivo? Lei fa una macchina che vende in tutto il mondo tranne che in Europa che non userà più la plastica, scusi la parola. No, l'Europa continuerà a usare la plastica, glielo garantire. Va bene.